Adesso parliamo di lavoro, del lavoro che non c'è, ci colleghiamo con la ex Eutelia a Roma dove c'è il nostro Matteo parlato. Allora eccolo, Matteo si è parlato moltissimo un po' di tempo fa dell'ex Eutelia, ora se ne parla un po' di meno, ricostruiamo questa vicenda. Buonasera, buonasera alla Tiburtina, alla mia spalla c'è la ex Eutelia, siamo alla Tiburtina, la periferia di Roma e quella che una volta era la Tiburtina-Valli. Che cosa è successo qui? Alla fine dell'anno scorso, a novembre, questa azienda era chiusa e c'è stato un raid organizzato dai proprietari che si sono finti, degli agenti di polizia sono entrati dentro cercando di sgomberare l'azienda. Chiaramente poi è intervenuta la polizia, quella vera, che ha rimesso a posto le cose e si è cominciato a parlare più seriamente delle questioni dei lavoratori qui. Il governo stesso si è occupato di questa faccenda e dopo diversi incontri che ci sono stati fra i lavoratori dell'Eutelia e il governo a Palazzo Chigi, il governo ha attivato una spirale positiva che ha portato alla messa sotto controllo dell'azienda e poi appunto il 17 febbraio si deciderà se questa azienda potrà essere commissariata oppure se andrà in fallimento. Queste due parole hanno due importanti significati perché il commissariamento vuol dire ancora speranza per i lavoratori, il fallimento vuol dire tutti a casa. Ma la cosa che va detta e di cui poi parleremo dopo alla fine del telegiornale con i protagonisti di questa faccenda è che questa spirale positiva che si era aperta con il governo improvvisamente si è interrotta purtroppo. Ecco si è interrotta, ne parleremo più tardi dopo il notiziario approfondendo questa vicenda.